Un elemento che influisce sulla sonorità del saxofono è il canneggio, ovvero maggiore è il diametro e più vigoroso e potente sarà il suono, questo ovviamente con un proporzionale dispendio di fiato. Allo stesso modo minore è il diametro e maggiore sarà la compattezza del suono e minore dispendio di aria, a fronte di minor forza sonora. I saxofoni sono per la maggior parte costruiti in ottone, in quanto esso è il materiale che, per sonorità, lavorabilità e altri fattori, offre le migliori qualità. Esistono anche saxofoni realizzati in rame, argento, bronzo, plastica o con leghe particolari, volte a mischiare le migliori qualità dei vari metalli. La finitura superficiale può a sua volta influire sulla sonorità del materiale sottostante. L'oro, in questo caso, è il materiale più utilizzato, in quanto rende il suono più libero ed elegante. Il rame toglie armoniche superiori, l'argento le enfatizza.